Vedete? Questa è la mia cucina, la conoscete, ma c'è una novità. Alexa accendi presa e parte l'albero di Natale. Alexa spegni presa. Questo è un piccolo esempio di domotica. Alexa accendi presa. Un piccolo esempio di domotica, domotica, spiccia. Qua c'è una presa di Amazon Smart, praticamente comandata con il wifi. Infatti vedete che c'è una lucina accesa perché adesso sta andando. Alexa spegni presa. Alexa accendi presa. Troppo veloce. Alexa accendi presa. Non c'è acceso. Alexa accendi presa. Alexa accendi presa. Si mi sa che si deve essere scollegata dal wifi.